ragazzi avete mai visto un motore brushless eccolo qui questo è quello del mio monopattino elettrico 500 watt di potenza sono in laboratorio ragazzi sto girando un nuovo video poi lo vedrete ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi in laboratorio per smontare il mio motore del monopattino elettrico il mio è un 500 watt nominali perché 500 watt nominali perché questo c'è scritto nel manuale delle istruzioni nel libretto nella l'etichetta sotto nel monopattino però ragazzi ora scopriremo tante cose molto molto importanti sui motori brushless questo infatti è un motore brushless come vedi sto andando a togliere i cerchi il cerchione è formato da due coppe laterali destro sinistro che incastrano e tengono diciamo chiuso il copertone battistrada più dentro c'è la camera d'aria infatti questo monopattino alle ruote con camera d'aria andiamo a eliminare tutti gli altri bulloncini ragazzi sono stretti bene sono stretti bene piano 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 senza evitando di far danni cioè nel senso di perdere la filetta dura spanare ecco sparare e i bulloncini andiamo a togliere i restanti ragazzi i motori brushless internamente sono fatti così questo è il mio motore brushless a ruota ovviamente perché è dentro il mozzo della ruota quelli sono gli avvolgimenti che come vedremo sono divisi in coppie questi sono i magneti magneti permanenti sono al neodimio sia sullo statore che sul rotore eccoli qua questa schedina elettronica invece la scheda dei sensori questi sensori diciamo che fanno delle sorte di misurazioni eccoli qua e comunicano con la centralina così da far sapere sempre in tempo reale alla centralina come sta girando il motore e in che posizione è il motore così lei di conseguenza aggiusta le frequenze aggiusta tutto ciò che c'è da aggiustare e il motore brushless cosa di meglio di un normale motore a spazzole tante tante cose ragazzi numero uno la potenza numero due l'efficienza numero tre la durata il motore brushless è molto ma molto silenzioso e molto potente come visto è anche molto semplice e meccanicamente a duraturo e infatti ragazze dovete pensare che i motori in ruota perché non ci sono solo per i monopatteni ma ultimamente stanno sviluppando anche per le auto questi motori sono molto ma molto resistenti anche all'usura al ai colpi è perché ragazzi sono messi in una ruota cioè tutte le buche i fossi vanno tutti a fare diciamo dare potrebbero dare problemi alla struttura del motore invece no perché perché un motore ingegnerizzato per essere resistentissimo qui sto facendo il calcolo degli elettromagneti sono 27 27 diviso 3 sono 93 sono ragazzi diciamo le fasi perché il cavo del motore vanta tre cavi di potenza più i cavi di controllo ogni fase perciò ti controlla 9 elettromagneti l'elettromagnete cos'è è quell'avvolgimento che visto prima attorno diciamo alla ferrite che poi ha il suo diciamo magnete neodimio sempre diciamo connesso questo perché ragazzi perché la centralina cosa fa attiva in maniera sequenziale questi settori questi tre settori attivandoli il rotore gira 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 perché lui che fa ne disattiva uno e ne attiva un altro disattiva quello di prima e ne attiva un altro ancora è così da poter andare a fare la rotazione qui invece sto andando a fare il calcolo della potenza massima che questo motore nel concreto potrebbe supportare il la bobbina che viene avvolta il rame il rame sono otto fili di rame intrecciati e poi avvolti per formare tutto quell'avvolgimento che abbiamo visto prima ogni cavo di rame ha una sezione di 0,35 mm quadri ragazzi questa sezione che cosa mi indica mi indica quel cavetto quel filo di rame quanta corrente può supportare ognuno 2,24 per sono 8 in tutto quel motore può supportare 17,92 ampere perfetto ragazzi ora se io vado a fare il conto che il mio pacco batteria originale perché originale un 500 watt e un 48 volt 48 volt la ce l'abbia emesso originaria era da 20 ampere perciò facciamo il calcolo che 20 ampere per andiamo a fare contenzione nominale del pacco batterie abbiamo 3,7 volt per 13 perché appunto sono 13 celle connesse in serie abbiamo 48.1 volt perfetto perciò nominale pacco batterie 48.1 per 17,92 abbiamo circa 860 può arrivare a 800 watt invece facendo il calcolo con la batteria al massimo carica abbiamo 54,6 volt perfetto per 17,92 perciò dando questa corrente al motore ok possiamo arrivare a 978 watt però ragazzi qual è la la cosa effettiva che nel concreto io oggi con la modifica che ho apportato al mio monopattino arrivo anche a dare correnti di oltre 25 30 ampere il motore ragazzi non scalda il motore si comporta benissimo recuperato tanta tanta potenza vi dico questo perché perché è vero che i dati tecnici sono questi però una percentuale abbondante in maggior azione dovete tenerla sempre presente ovviamente non andate troppo oltre perché andando troppo oltre si fonde che cosa si fondono i cavi di rame perché fondendosi rai cavi di rame perché si fondono perché appunto passa tanta tanta corrente tanta corrente si surriscaldano e vanno a fondersi niente ragazzi se il video ti è piaciuto like iscriviti al canale mi raccomando commenta sotto fammi sapere cosa ne pensi ciao e al prossimo video